Musica Giustizia, sociale e occupazione sono i temi cari al sindacato CGL del Molise. Oggi l'incontro a Boiano con l'ex segretario della FIO Maurizio Landini. Palazzo Chigi ha stabilito che il progetto di qualificazione del centro di Termoli può andare avanti ma con delle modifiche dal comune le prime parole di soddisfazione. Raddoppio degli appelli definiti in commissione tributaria legato soprattutto all'elevato numero di sentenze sui bolli auto impugnate dalla regione, organici ridotti. Il comune di Mafalda ha chiesto all'Arsem l'utilizzo di una struttura sanitaria in paese per le prestazioni ambulatoriali di base a servizio dell'area. Buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento dell'informazione di TLT. In Molise tra agricoltura e turismo serve un modello che metta al centro dei programmi il lavoro e un'idea di giustizia sociale. Ma occorre anche ripartire dagli investimenti pubblici, viabilità e servizi sociali. Sono queste le parole del sindacalista della CGL Maurizio Landini, oggi a Boiano, per un'iniziativa sui scenari economici della regione. Sentiamolo. Una presenza qua nel Molise, ma una chiusura di questo dibattito, di questa iniziativa sua dove ci sono sinceramente molte situazioni di amarezza, però una grossa spinta all'entusiasmo a ricostruire qualcosa di concreto, che sia anche una sorta di recupero di ideali molto forti che oggi come oggi l'Italia ne necessita. Credo che il punto centrale sia rimettere al centro il lavoro davvero, che vuol dire difendere i posti di lavoro, ma crearne anche dei nuovi. In una situazione come questa, dove siamo anche in una zona riconosciuta, area di crisi complessa, c'è un problema che riguarda una riforma degli ammortizzatori sociali per evitare i licenziamenti. Ma dall'altra serve anche una strategia di investimento che sia in grado di affrontare i nodi e i ritardi che qui sono generali, che riguardano le infrastrutture, che riguardano la formazione e la conoscenza delle persone, che riguardano la manutenzione del territorio. Allora questo richiama senz'altro anche una diversa politica regionale, ma di sicuro anche un cambiamento delle politiche economiche fatte dai governi in questi anni, regioni, sia sul piano delle politiche industriali, sia sul piano delle politiche sociali, perché è indubbio che il jobax, la precarietà, la ricattabilità delle persone è stato un elemento che ha favorito una competizione a ribasso. E dall'altra credo che sia sotto gli occhi di tutti che ridurre l'età pensionabile in un paese dove nel mezzogiorno c'è il 40% di disoccupazione, è solo un fatto di intelligenza. Passiamo alla cronaca. Rubava soldi dai conti correnti online con il metodo del pishing, è stato denunciato dai carabinieri per truffa. Un 31enne di Napoli dopo aver prelevato dal conto corrente di una donna di casa calenda oltre 2.500 euro. La quarantenne aveva ricevuto sulla sua casella di posta elettronica una mail avente come emittente le poste italiane, con la quale veniva invitata ad aprire un link e a seguire delle istruzioni digitando anche i pin e password per risolvere alcune anomalie. Ancora un'operazione antidroga è stata portata a termine a Risernia dai militari dell'arma nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Un ventenne di origine nordafricana è stato trovato in possenso di involuqui contenenti marioana, 100 bustine di cellofan per il confezionamento delle dosi e denaro provento dell'attività di spaccio. Con quest'ultima attività salgono a 35 le persone che all'inizio del 2018 sono finite nella rete dei carabinieri in provincia di Isernia per i reati in materia di stupefacenti. E c'è stata oggi l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Commissione Tributaria regionale del Molise. In evidenza soprattutto il raddoppio dei ricorsi e la carenza di personale. Vediamo. Un momento di raccoglimento, il ricordo di Aldo Moro, politico, accademico e giurista, rapito ed ucciso nel 1978 dalle Brigate Rosse. Si è aperta così questa mattina al Mario Pagano di Campobasso, la quindicesima cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario. In evidenza, nelle relazioni del Presidente della Commissione Tributaria regionale per il Molise, Francesco Saverio Moscato, soprattutto il raddoppio degli appelli definiti con sentenza, 1.640 nel 2017 rispetto agli 826 nel 2016 e l'abbattimento di quasi il 20% della pendenza, ridotta da 1.905 a 1.565 casi. Numeri legati non ad una cresciuta litigiosità tra contributi e fisco, pressoché simile agli anni precedenti, ma alle impugnazioni da parte della Regione Molise di due sentenze in materia di bolli auto. In ogni caso, lusi in ghieri risultati conseguiti dalle due commissioni tributarie provinciali. Dati significativi malgrado i persistenti e consistenti vuoti di organico, sia tra i giudici che con difficoltà formano i collegi giudicanti, sia nel personale amministrativo. Mancanze che, come augurato dal Presidente Moscato, possano almeno in parte essere risolte con il completamento dei concorsi banditi tempo fa dal Consiglio di Presidenza e dal MEF e con la conseguente immissione in organico di altri magistrati e funzionari. Più in generale, per risolvere il problema dell'eccessivo afflusso di ricorsi alle commissioni tributarie, occorrerebbe favorire la crescita dei rapporti tra fisco e contribuenti, sfatando l'immagine di un fisco predatore e rendendo i cittadini consapevoli dell'essenzialità della raccolta delle risorse attraverso una fiscalità più equa e marginando i cosiddetti furbi che sottraggono risorse sia allo Stato che ai contribuenti onesti. Lo Stato deve quindi mostrare di saper utilizzare al meglio le risorse in termini di maggiori servizi e strutture di utilità generale in un rapporto di reciproca fiducia oggi assente. Del resto, l'evasione non si combatte solo con la repressione, ma anche cambiando la cultura, la partecipazione e la solidarietà. In questo senso, fondamentale da parte del Governo e del Parlamento, una riforma della giurisdizione tributaria a lungo attesa, ma mai realizzata. Infine, un cenno al processo tributario telematico e al degrado in cui versano i locali che ospitano la Commissione Tributaria Regionale. Nel primo caso, attualmente, la scelta tra modalità telematiche e quella tradizionale di notifica e deposito di atti e documenti è rimessa alla discrezionalità del difensore che esercita tale opzione in riferimento ad ogni singolo procedimento patrocinato. Evidenti comunque vantaggi della informatizzazione sia per la riduzione di costi che per la semplificazione e celerità degli adempimenti processuali. Circa la sede della Commissione, locali vetusti, pessime conservazione e manutenzione, numerose inoltre le barriere architettoniche, indispensabile lo spostamento in un'altra struttura. È di 40 anni fa, il 16 marzo, l'agguato in via Fani a Roma in cui persero la vita per mano delle Brigate Rosse, Aldomoro, due carabinieri e tre poliziotti. Tra questi anche il molisano Giulio Rivera, originario di Guglionesi. I suoi familiari oggi presenti a Roma alla cerimonia di commemorazione di quei fatti. Dopo i saluti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la sentita cerimonia all'incrocio con via Stresa, scoperta anche una nuova lapide. Colpo di scena quello che giunge da Roma direttamente da Palazzo Chigi e che riguarda Termoli, rivoluzionario progetto del tunnel e del multipiano interrato di Piazza Sant'Antonio con la riqualificazione di Pozzo Dolce. Oggi il Consiglio dei Ministri, guidato ancora da Paolo Gentiloni, ha deciso a sorpresa di dare via libera alla prosecuzione dell'opera portata avanti dall'amministrazione Sbrocca. Lo ha fatto pur accogliendo parzialmente l'opposizione del Mibac e della soprintendenza. Palazzo Chigi ha stabilito che si andrà avanti con le modifiche, anche se ancora ha tutto da definire. Gli anziani hanno più difficoltà a raggiungere gli ospedali della regione, anche per via delle condizioni stradali pessime. A Mafalda gli amministratori locali hanno chiesto all'Arsem l'attivazione in paese di prestazioni ambulatoriali. Dopo la realizzazione del nuovo edificio scolastico e la presentazione dell'impianto sportivo multifunzionale, gli amministratori del Comune di Mafalda stanno lavorando alle problematiche socio-sanitarie della cittadinanza. La giunta del Sindaco Egidio Riccioni ha richiesto all'azienda sanitaria regionale l'utilizzo della struttura di proprietà dell'Asrem in paese per l'attivazione di servizi ambulatoriali per alcune ore settimanali che riguardano tra gli altri cardiologia, diabetologia, urologia, ginecologia e oculistica. Le pessime condizioni della viabilità del Medio e Basso Molise penalizzano fortemente i comuni dell'entroterra, creando forti ostacoli soprattutto per la popolazione anziana ai fini dell'accesso ai servizi sanitari di base. L'attivazione di una sede ambulatoriale a Mafalda soddisferebbe le esigenze sanitarie anche dei pazienti dei paesi limitrofi. Fa sapere il primo cittadino, ci impegneremo pertanto a fare in modo che la regione adotti tempestivamente il provvedimento. Le massime istituzioni regionali e la Direzione Generale per la Salute del Molise condividono la proposta. In attesa dell'iter burocratico, in paese si è in attesa di ottenere al più presto le prestazioni ambulatoriali specialistiche. Il candidato designato della coalizione di centrodestra governatore della regione Molise Donato Toma ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di assessore del comune di Boiano in vista degli imminenti impegni elettorali. Dopo aver presentato invece il candidato governatore del Molise Andrea Greco, il Movimento 5 Stelle torna nelle piazze domani e domenica 18 a Campobasso, Isernia e Termoli per accogliere le firme necessarie alla presentazione della lista per le elezioni regionali del prossimo 22 aprile. Nella città capoluogo la piazza interessata sarà quella di Vittorio Emanuele II ad Isernia a piazza Celestino V e piazza Stazione a Termoli via Adriatica. Rifiuti a Lido di Campomarino, le cattive abitudini continuano a minare l'integrità del litorale adriatico e questo a pochi mesi dall'avvio della stagione balneare. L'incuria, il malcostume e l'inciviltà di molti continuano a perpetrare danni all'ambiente naturale, corrisvolti per l'incolumità e la salute di persone ed animali. Rifiuti di ogni genere trovano terreno fertile ancora una volta sul litorale costiero. Parliamo dell'Ido di Campomarino dove tra pochi mesi inizierà la nuova stagione balneare. La cartolina di questi giorni non è molto accattivante per residenti e turisti che vogliono godere del caldo sole della costa molisana. Materassi armadi, ceramiche ed elettrodomestici fanno bella mostra tra le strade e la pinetina, abbandonati illegalmente da chi ha deciso che è tempo di disfarsene. A questo tipo di rifiuto spesso nelle discariche a cielo aperto si associano i materiali di risulta provenienti da lavori dell'edilizia. Sempre a proposito di ambiente nella vicina Termoli proseguono le opere di riparazione della condotta sottomarina che trasporta i liquami trattati dal depuratore direttamente nelle acque del mare adriatico. Uno sversamento dei reflui che nei mesi scorsi ha portato oltre all'inquinamento delle acque marine anche cattivi odori avvertiti nella città. Per la procura della Repubblica di Larino i lavori di riparazione dovranno terminare entro martedì 27 di questo mese. Sette sono invece le persone indagate per il presunto sversamento di sostanze inquinanti in mare. I volontari dell'Associazione Padre Tedeschi e Comitato Molise Pro Venezela promuovono a Campobasso domani alle ore 16.30 un incontro al centro del volontariato di Via Cirese per discutere gli aiuti alla popolazione del Sud America e gli emigrati sulla strada del rientro a causa della grave emergenza umanitaria in atto. Tutti cantano Sanremo e questa l'iniziativa che andrà in scena domenica all'auditorium di Isernia. Giovani Pentri proporranno brani del noto Festival Ligure, ospite d'onore l'artista Povia. La musica Sanremese dal dopoguerra ad oggi protagonista domenica 18 marzo alle 20.30 all'auditorium di Isernia con ingresso gratuito a riproporre noti brani una giovane band Pentra. Sul palco anche l'artista Povia, una iniziativa ben accolta dalla locale amministrazione su proposta della Proloco. È un progetto interessante curato dall'agenzia Aeromusic di Isernia ed è un progetto, tutti cantano Sanremo live, che vede coinvolti dei ragazzi Sernini. A maggior ragione l'amministrazione ha voluto essere presente e partecipe nell'organizzazione. Il progetto vede appunto dei ragazzi Sernini che partiranno con la loro tappa zero domenica qui a Isernia per presentare il progetto che li vedrà girare tutta Italia in tourne di quest'estate. Questo è un tributo che è nato nel settembre 2016 e abbiamo scelto di riproporre tutto il percorso Sanremese della musica italiana dal dopoguerra ad oggi. Più grandi successi ovviamente perché fare tutto il concerto sarebbe improponibile visto le grandissime canzoni che sono state fatte nel corso degli anni. Abbiamo scelto di intraprendere questo percorso per valorizzare la musica italiana e perché abbiamo deciso che comunque è una buona vetrina anche per noi per portare in giro la musica appunto italiana riarrangiata comunque da noi rendendo uno spettacolo molto più piccante e vivace. Come ospite ci sarà Povia che farà uno spettacolo musicale in acustico dove noi accompagneremo anche con qualche brano questo artista. Si aggrava la situazione di Frane e di Sesti a Bagnoli del Trigno a chiedere aiuto ancora una volta il comitato spontaneo di protestra che questa volta minaccia la consegna delle proprie tessere elettorali se non verranno presi al più presto dei provvedimenti per facilitare la circolazione di alcune importanti arterie. Ricordano che già da tempo fa avevano comunicato e chiesto aiuto alle associazioni affinché si mobilitassero. L'ultima via Cruci scantata in forma solenne oggi a Campobasso nella chiesa di Santa Maria della Croce intanto da domani e fino al 23 marzo inizierà il settenario in onore della dolorata. I fedeli potranno udire la cantata sacra composta del 1890 dal maestro Michele De Nigris con la zuquea zu una botta e risposta tra violini e contrabbasso. A precedere ogni sera la Santa Messa alle ore 19 la recita della corona dei sette dolori. Poi l'inno sacro seguito da orchestra a coro diretti dal maestro Antonino Colasurdo. Prospettive e opportunità economiche sulla trasponda del mare adriatico. Interventi e dibattito domani pomeriggio alle ore 15 e 30 nella sede della Camera di Commercio. A Campobasso incontro sarà aperto agli amministratori, pubblici e agli imprenditori. Vediamo adesso le prossime previsioni del meteo. Coperto con precipitazioni piovose sull'Alto Molise nella giornata odierna, dalla sera parziali rasserenamenti. Le temperature sono comprese tra gli 8 gradi di Campobasso e la massima di 16 a Termoli. Ventilazione sud occidentale, poco mosso il medio adriatico. Sulla regione domattina cielo inizialmente variabile. Valori climatici stazionari, venti meridionali. L'Olimpia agnonese è stata perfetta in campo nello sconfiggere la corazzata matelica. Un successo che rilancia la squadra granata verso l'obiettivo salvezza. Davide Corso, che vittoria è stata contro la capolista matelica di quelle da ricordare? È stata una bella vittoria. Sono partite che noi comunque dobbiamo fare punti con tutte le squadre. Non c'è prima, ultima. Questo è lo spirito di battaglia, di lotta perché noi comunque ci dobbiamo salvare. Oggi era importante fare bottino pieno. Noi abbiamo fatto un'ottima partita. Sapevamo che era una partita difficilissima perché comunque affrontavamo il Matelica, che è la prima forza del campionato. Però penso che l'abbiamo affrontata molto bene perché abbiamo iniziato benissimo attaccando gli alti. Poi giustamente dopo il gol ci siamo un po' abbassati perché sapevamo la forza loro e cercavamo di ripartire. Però penso che è stata un'ottima partita da parte nostra. Si è stato come sempre una diga davanti alla difesa. Come avete fermato il miglior attacco del Girone? Penso che fermare il miglior attacco del Girone, che erano loro, bisogna fare una partita di squadra. Partendo dagli attaccanti che pressano, dai centrocampisti e poi dai difensori che hanno fatto benissimo. Secondo me Cassese, che ultimamente magari aveva fatto qualche errore, però è tornato alla grande con una partita perfetta. Per fermare l'attacco, dovevamo fare questa partita e abbiamo fatto un'ottima prova. È stata la partita perfetta? Sì, sì, è stata la partita perfetta perché battere la prima comunque devi fare per forza la partita perfetta. Io penso che per vincere tutte le partite dobbiamo giocare così, dobbiamo fare sempre perché per noi comunque sono nove finali da qua alla fine. C'è un piccolo ramarico da parte tua, l'ammunizione che ti costerà saltare il prossimo turno. Purtroppo capita, ma non ci pensavo in campo, quindi sì, alla fine ci sono gli altri ragazzi, i miei compagni che comunque mi sostituiranno alla grande, quindi non è un problema, siamo tutti importanti in questa squadra. È lo spirito giusto per uscire dalla zona pericolosa della classifica? Come dicevo prima, per forza dobbiamo mettere questo spirito, abbiamo messo comunque anche a Reganati, purtroppo a Reganati gli episodi all'inizio, che siamo partiti subito per svantaggio, non ci hanno aiutato, però abbiamo rimontato tre gol a Reganati, oggi abbiamo fatto una partita perfetta, quindi questo è lo spirito per uscire da questa zona brutta. Si giocherà domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Civitelle di Agnone la gara Vasto Girardi-Isernia che metterà di fronte le due contendenti alla vittoria finale del torneo di Caccio di eccellenza. Per ripartire il campionato il giallo-blu di Mister Grossi sono chiamati a vincere. Per la capolista Isernia il pareggio manterrebbe le distanze immutate. Nel calcio A5 nazionale di Serie B scenderanno in campo domani pomeriggio le due molisane per la nona giornata di ritorno. Il CUS affronterà nell'impianto al coperto dell'Ateneo a Campobasso i Pugliesi dell'Altamura in trasferta a Montesilvano in provincia di Pescara la Chaminade contro il Real D. Il nuotatore della H2O Giuseppe Massignano ha ottenuto una vasca il pass per partecipare ai prossimi campionati italiani di nuoto sulla distanza dei 200 metri d'orso con il tempo di 2.15. Successi anche per Mattia Cimini, Giada Di Pietro, Gianluca Esposito e Arianna Capriana. Nella pallacanestro femminile di Serie A la Magnolia Campobasso sfiderà invece domani alle ore di 7.18.30 l'Umbertirde di Plaza Vazieri. Le molisane trovano a centro classifica con 20 punti attualmente 6 in meno per le avversarie in Vettalempoli a 38 punti. Con questo è tutto, con l'ultima notizia di sport, il telegiornale di TLT termina qui. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.